Gianni Morandi è uno dei personaggi più simpatici, oltre che di grande talento, della televisione italiana, eppure è gelosissimo della moglie Anna. Ecco il commento esilarante che ha lasciato sotto al suo ultimo post social. Gianni Morandi ama condividere momenti di vita sul suo profilo social di Instagram. Non solo, una delle sue più grande caratteristiche, che lo rendono poi la simpatica persona che è, consiste nel fatto che tende a rispondere veramente a tutti coloro che gli scrivono commenti e messaggi. Ama, infatti, creare una sorta di contatto con il suo pubblico, e con quelli che lo seguono da sempre. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto nella quale si vede chiaramente che sta prendendo il sole e non solo. Si è mostrato anche particolarmente abbronzato, e sono arrivati tantissimi commenti sotto la sua foto. Alcuni super simpatici, mentre altre sue risposte sono risultate davvero esilaranti. Gianni ha una bellissima relazione con la moglie Anna da diverso tempo, e i due sono spesso particolarmente legati. Capita che il grande cantante italiano pubblichi foto con la sua Anna, e che le faccia anche delle splendide dediche Qui per scoprire una delle ultime splendide dediche che ha fatto all'amata moglie Ma che cosa è successo nelle ultime ore sotto il suo ultimo post? Scopriamolo di seguito Gianni Morandi super geloso della moglie Anna? Ecco che cosa ha scritto Come anticipato, il mitico Gianni Morandi, ha pubblicato una foto che lo ritrae, mentre, in modo del tutto rilassato prende il sole Si vede che è particolarmente abbronzato, e, con la sua solita ironia che lo contraddistingue, Ha scritto, cotto al punto giusto Tanti sono stati i commenti che gli sono arrivati sotto alla foto Primo fra tutti uno che riguardava proprio la moglie Anna Un utente, molto probabilmente un suo fan ha scritto, ciao Gianni, saluta Anna Evviva! A quel punto, Gianni ha risposto prontamente, ma la conosci? Mi devo preoccupare? Mostrando un pizzico di gelosia? Appare evidente che si è trattato, comunque, di una risposta ironica e in pieno stile Gianni Morandi, che si diverte a scrivere risposte esilaranti sul web Eppure ha mostrato, forse per la prima volta, un pelino di gelosia per la sua amata La risposta rilasciata subito dopo sotto a un altro commento è non solo la prova della sua immensa simpatia ed ironia, ma è soprattutto esilarante Qualcuno gli ha scritto, Gianni sei un eterno ragazzino A quel punto lui ha risposto in tutta sincerità e schiettezza, fra poco eterno riposo, con tanto di faccine che ridono Il commento ha ricevuto, al momento, più di 600 miglia piace, in quanto è risultato veramente tanto simpatico Insomma, Gianni Morandi non solo è uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana, ma è anche un personaggio inimitabile